Prima sessione di qualifiche dell'Euro Formula Open al Circuit du Castellet, intitolata alla memoria di Paul Ricard, terzo round della stagione 2017, sessione di qualifica dispostatasi sul caldo qui nella regione Duvar. Pole position per Harrison Scott in 1.59.569, triplete per l'inglese di casa RP Motorsport che ha preceduto per soli 249 millesimi Nikita Troitsky, portacolore di casa Drivex ed SMP Racing, terza posizione per il secondo miglior rookie Janne Spitti, tedesco che punta a riprendere la seconda posizione in campionato, che si è qualificato davanti ad Amey Avady Anatan e alla chiusura della seconda fila, indiano del Team Carlin vincitore di gara 1 a Spa-Francorchamps, l'esultanza in casa RP Motorsport per la terza pole position stagionale conquistata con Scott che lungo i 5.842 metri del circuito francese partirà così dal palo nel pomeriggio. sedicesimo Lodovico Laurini, unico italiano presente in campionato, quinto Devlin De Francesco, italo-canadese di casa Carlin e diciassettesima piazza per la BVM con Daniel Pronenco.